Questa stagione ho presentato la donna mediterranea, che mi sono ispirato alle grandi dive degli anni 50-60, parlo di Sofia Lore, parlo di Vienalisi. Dive italiane e anche straniere, Merenine Marot, Brigitte Bardot eccetera, erano molto diverse rispetto alle donne e alle dive di oggi. Avevano le loro rotondità e avevano un sex appeal molto diverso. Lavorando su questo ho fatto degli abiti con tutte queste imbottiture che hanno cambiato proprio la silhouette. Non trovando delle donne in carne, diciamo così, cosa ho fatto? Ho imbottito le gonne, i pantaloni eccetera. E ci è venuta fuori una donna sensualissima. La mia massima fonte di ispirazione è ieri, oggi e domani, quando Sofia Lore fa quello spogliarello di fronte a Marcello Mastroianni. Quella è una scena incredibile. C'era una energia in quella donna con quelle cosce, con quelle gambe, con quelle forme. Un'energia che non c'è nelle donne di oggi e nel sex appeal che viene oggi presentato. Perché viene scelto da persone che non amano le femmine. Un'energia che non c'è.